Senti, nessuno meglio di te può dire quanto è importante tornare a alzare un trofeo per Perugia? Sì, un trofeo come questo è importante, difficile da vincere, ci voleva perché abbiamo lavorato tanto, siamo cresciuti tanto in questi mesi, abbiamo avuto tante difficoltà tra covid, infortuni ed è una bellissima soddisfazione. Quanto vi dà in termini di sicurezza e consapevolezza per il futbolismo? No, ci fa capire che il percorso intrapreso è quello giusto, però dobbiamo ancora crescere, ma è normale, questo trofeo ci dà la possibilità di allenarci con ancora più calma, positività, intanto è veramente da tanto tanto morale. Grazie a tutti. Grazie.